Ciao a tutti, bacioli enormi della vostra amica, altro video e non vi dico nient'altro con confetti pop, queste della serie 3, della wave 1 però, perché ho trovato queste a Lauscia, ve l'ho detto l'altra volta già nel primo video perché ne avevo prese due, chi mi segue lo sa, niente, andiamo subito a scartarla e non vi spiego niente di niente perché tanto le conoscete ormai meglio di me, stavolta voglio provare a fare il contrario, perché? Non riesco a aprire, ma mai una che si apra dritta? Vabbè, la zip non è il mio forte la zip Allora Vediamo L'indizio Sun Kiss Allora, Sun Kissed Il sole, baciata dal sole, sì, che bello che è questo indizio Vediamo, 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 vediamo Allora, adesso qua ci saranno Gli adesivi, solito Sono gli adesivi Sì, ma amore, sto Sto aprendo Perché è un po' particolare ad aprire Ma una si apra dritta E questi, i soliti, che conoscete benissimo E adesso Mmm, sto zip Allora, la bowl rosa Ma perché non le fanno un po' più tagliate Che si aprono almeno Allora Il tatuaggio è questo Bellissimo Con la conchiglia Bello, 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 bello Ok Voi avete lì una checklist dell'altra Non svelatemi niente Sharon, soprattutto Togliamo il sigillino E andiamo a cominciare a spin me A spinmare i nostri spicchietti qua E a togliere tutte le cosiddette Facciamo così Prima li togliamo tutti E poi li apriamo Ok Togliamo già la nostra Cernierona qua per tirare Per far far pop Alla nostra bowl Non voglio saperlo Perché voglio la sorpresa Grazie Lo capisco subito Oh 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 Può ta con la checklist in mano Sì Facile la vita Ma io non le conosco ne ancora bene Ne ho solo una di queste Di quella categoria Allora Abbiamo Tolto tutto Sì 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 Allora Prima di andare a aprire la bambolina Andiamo a vedere Cominciamo dal bibe Che dovrebbe essere questo Ok Vediamo Il suo bel bibino Uh bello C'ha la scritta pop Il bibe è verdino Questo qua Un pistacchio fluorescente Ed è una lattina Stupendo questo Allora Poi Vediamo vediamo Queste forse sono le scarpine Vediamo Ok Non voglio sapere Allora Hai capito qual è? No È Angel No No Ma non li assumo io neanche da l'interno No Fa niente Allora fa degli occhiali Fa niente Occhiali A cuoricino È carina dai Poi Ho capito Quella col vestito Non so il nome però Ho visto il costumino adesso Stupenda Che carino Troppo bella Questa qua Tante diventavano matte Per trovarlo Vi soltanto i video Che non la trovavano Questa con questo costumino Qua un po' sportivo Bellissima Allora Ma cos'è che manca Le scarpine Vediamo Prendere le sue Scarpettine Una E due Scarpettine Queste qua Tutte belle bassine Ma che belle Che sono patocitte Piccoline Non voglio vederla Me la guardo dopo Spoiler Adesso Pop Allora No adesso non la guardo L'altra checklist Qua i miei indizi Le mie cose La bambolina saltata Lì poi Sapete che c'è sempre Dentro la sua Zippettona Purtroppo bella Questa con la scritta Così Adesso Andiamo a vedere Vi ricordo il costume Ma lei non me la ricordo È bella questa Wow Cioè No guardate La capigliatura È stupenda Le treccine Anche dietro Troppo 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 bella E questa cosa deve fare? O sputa O fa la cosa misteriosa O fa la cosa misteriosa Che sono i buchini Nell'orecchio Guardiamo subito Però Facciamo subito così La mia velina Io dico che sputa Adesso vediamo Sembra che abbia i buchini Nelle orecchie Perciò mi sa che Vediamo E infatti Se vedete Le bolle Le fa dalle orecchiette Adesso andiamo a farla Sputacchiare Dalle orecchiette Ecco Sputato Troppo bella Svuotiamogli le orecchie Bello Svuotiamogli le orecchie Poveria Se fa quello Perciò Attaccami te Fatto Bravissima La mia aiutante Guarda È bellissima anche questa Stupenda Stupenda Mettiamogli il suo costumino Tutta sportiva E adesso li mettiamo Sempre questo Su sopra Che tanti sono tagliati Per fare più Meno fatica A metterli E invece tanti Bisogna proprio Stortargli le braccine Ma io ho una paura Di rompere il vestitino Ok E ecco Quasi completa Le scarpine E questa si chiama Reptide Bellissima Poi gli occhialetti Che andiamo a metterli lì su Fa cuoricino Ma no Troppo bella Ok Vediamo Ok Eccola qua E fa anche Quello misterioso Benissimo Adesso gli mettiamo Gli occhialini E gli diamo in mano Il suo bibino È bella Dai è bella Mi piace Bella 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 Niente Fatemi sapere Se ce l'avete anche voi E vi do appuntamento Al prossimo video E bacioni Anche dalla nuova Lola Arrivata in casa Nica Ciao